Tramite il nuovo servizio dei numeri utili, le rubriche di pubblica utilità disponibili nell'intranet regionale possono essere arricchite grazie all'intervento di tutti gli utenti. Ciascun utente avrà infatti la possibilità di modificare i dati presenti nelle rubriche facendo sì che questi siano aggiornati in modo costante ogni qualvolta si venga a conoscenza del cambiamento per esempio di un numero di telefono o di un indirizzo e-mail. Sottolineiamo che non sarà possibile cancellare le voci esistenti per evidenziare il carattere collaborativo del servizio e per ragioni di trasparenza sarà sempre visibile il nome dell'utente che ha portato l'ultima modifica ad una voce. Per lo stesso motivo nella rubrica sarà inoltre conservata la cronologia dei cambiamenti effettuati.